Buongiorno, buona giornata e buon giovedì 8 ottobre 2020, siamo alle ore 8 e 10 minuti prima di questo primo video di oggi dove praticamente parliamo dell'Italia, che lo dico subito, indipendentemente dal risultato che ovviamente era già scritto che l'Italia vingeva la cosa più importante era la preparazione per la trasferta in Polonia di questa domenica certo ci sono state noti abbastanza positive Cristante, Caputo, El-Sharaw, Iberati insomma, poi hanno giocato anche a partite in corso Emerson, Cragno, Grifo, Senzi, Kane, Lasagna insomma, per Mancini l'amichevole è servita più sul piano gestionale o non esco dal riquadro o dicendo di prepararsi un appunto per domenica sperando di avere sentito un po' di bonucce e chiallini per quanto riguarda la loro positività e al Covid vediamo perché la sfida contro la Polonia sarà delicata e comunque io penso che la nostra nazionale si presenterà per cercare di fare una buona partita e quindi come diciamo in gergo ingrociamo le dita andiamo lì a Danzica e facciamo quello che sappiamo fare certo ogni partita è diversa bene, conclusione di questo video ci sarà qualche altro video per la giornata di oggi poi penso di mettere tra le stories di Facebook il video dove parlo del draft che è draft WWE che inizierà domani a SmackDown e si concluderà lunedì a Raw quindi noi ci diamo l'appuntamento per gli altri video buon proseguimento di giornate alla prossima ciao